Salve, sono Antonella Giacomini, titolare di questo negozio. Qui potete trovare prodotti sempre freschi anche a chilometri zero, perché oltre agli ortaggi di nostra produzione, infatti noi abbiamo un'azienda agricola, Orniano di Basiliano. Io mi rifornisco da aziende locali certificate per garantire la bontà e la salubrità dei nostri prodotti. Oggi ho deciso, per far conoscere le verdure della nostra azienda, di chiamare la chef Mikla per insegnare alle mie clienti come si concinano le verdure. Questo è il mio motto, come potete vedere dal mio grembiule, io vendo e voi cucinate. Però oggi abbiamo cucinato nel mio negozio con la chef qui presente, Mikla, che è stata molto brava e molto eloquente con le sue buonissime ricette. Bene, io ringrazio Antonella. La giornata è stata splendida, abbiamo avuto veramente un grande flusso di persone, l'iniziativa è piaciuta, è stata apprezzata. L'interesse nel conoscere e imparare ad usare i prodotti del territorio, soprattutto di stagione e a chilometro zero, è stata apprezzata al 100%. E che dire, vi aspettiamo al prossimo incontro per, appunto, c'è chi vende e chi cucina, diciamo così. E se tutto vi è piaciuto, cliccate il mi piace sulla pagina Facebook Frutta e Verdura Giacomini. Grazie. Grazie. Grazie.